Musica Ancora buongiorno, il nostro Tg nell'apertura è ampiamente dedicata al caso dell'exilve a quanto sta avvenendo in queste ultime ore, lo Stato è impegnato a salvare la siderurgia italiana ovviamente salvando la siderurgia di Taranto, lo ha dichiarato a Potenza il Ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha tenuto anche un incontro nella sede di Confindustria Basilicata, il nostro primo servizio. Al termine del meeting svoltosi nella sede di Confindustria Basilicata a Potenza il Ministro Urso insieme al Presidente della Regione Basilicata Bardi ha incontrato lavoratori e parti sociali per fare il punto sulla situazione Stellantis e quella dei lavoratori dell'indotto, oggi ad alto rischio licenziamento, soprattutto a causa della transizione all'elettrico che sta causando gravi difficoltà alle aziende in termini di investimenti e trasformazione. Sentiamo quali sono state le richieste fatte al Ministro e le soluzioni proposte. Mi hanno chiesto un particolare focus su Melfi e ho detto loro che lunedì i tavoli tecnici del tavolo Stellantis, già attivo da tempo, si riuniranno per esaminare stabilimento per stabilimento le prospettive produttive, occupazionali e il rapporto con l'indotto. Quando si finirà questo lavoro di ricognizione con la piena collaborazione dell'impresa Stellantis in modo tale che stabilimento per stabilimento e quindi anche a Melfi noi sappiamo quali sono i modelli che Stellantis intende produrre e in che tempo, quali saranno i livelli produttivi che intende realizzare in quello stabilimento anche per invertire la tendenza al declino produttivo dell'industria automobilistica italiana, quali sono i rapporti con l'indotto e quindi anche occupazionale che intende realizzare. Poi riuniremo un gruppo di lavoro coordinato dal mio di Castero sull'area industriale di crisi complessa di Melfi per la quale abbiamo già destinato 20 milioni di euro in attesa di fare anche qui un conto esatto dei fabbisogni e eventualmente implementare le risorse. Esito interlocutorio della riunione tra i ministri Urso e Calderone e le associazioni che rappresentano le imprese fornitrici e dell'indotto dell'Exilva. E vediamo ora le posizioni di casa artigiani confartigianato nel servizio di Leo Spalluto. Un tavolo tecnico di confronto con le categorie dell'indotto e gli autotrasportatori in vista del commissariamento dell'Exilva e la rassicurazione data dai ministri dell'impresa Medinitalia Adolfo Urso e del lavoro Marina Calderone nel corso della riunione in videocollegamento con le associazioni rappresentanti delle aziende fornitrici e dell'indotto di acciaierie d'Italia. Il dato comune dei partecipanti è rappresentato dalla richiesta al governo dell'appagamento dei crediti maturati all'impresa e prima che cominci l'amministrazione straordinaria. Il segretario di casa artigiani Puglia Stefano Castronuovo spiega ai microfoni di Antenna Sud le richieste avanzate ai ministri. Abbiamo chiesto l'inserimento di una clausola sociale di riconoscimento dei crediti finora maturati dalle aziende di adottotrasporto, indotto di acciaierie e tramite questa clausola appunto far fuoriuscire questi crediti da un'eventuale procedura fallimentare. Ma sull'argomento le sensibilità sono diverse. Da IG è arrivata la totale bocciatura dell'esito dell'incontro e la convinzione che la politica abbia abbandonato le imprese al loro destino. Da lunedì le aziende IG interromperanno anche le forniture indispensabili ad acciaierie d'Italia e annunciano nuove e clamorose iniziative di protesta. Con Fartigiana Topuglia, intervenuta con il presidente Sgerza, Lovecchio, Castellano e Paolillo, oltre alla garanzia dei crediti, chiede una dotazione specifica per gli ammortizzatori sociali, un piano nazionale per il settore siderurgico e nel trasporto e l'assuperamento dell'assegnazione tramite piattaforma. E rimaniamo in tema. Strada statale 106, ionica bloccata dal corteo degli autotrasportatori dell'indotto AGI. Abbiamo ascoltato a tal proposito le voci degli imprenditori ma anche dei lavoratori preoccupati del loro futuro. Una giornata che resterà indelebile nella storia del siderurgico Tarantino e non una giornata qualunque, non una delle tante proteste legate all'ex Silva ma quella degli autotrasportatori, dei lavoratori dell'indotto di acciaierie d'Italia. Noi qua siamo disperati, stiamo perdendo i soldi, le aziende, 4.000 persone che non sapranno cosa fare. Un'acciaieria che è al disastro e qua facciamo, dobbiamo fare le call. Quando qua bisogna venire bisogna scrivere la fine di questo territorio, di che cosa si deve fare. Ma stiamo scherzando sul cielo, cosa vogliono? Che ci andiamo a legare sui binari, che prendiamo le corde e ci impicchiamo perché non possiamo dire, io ci ho lavoratori che stanno con me da 30 anni, ma che cosa gli devo dire domani mattina? Ma per favore! Ci devono pagare perché qua non si può andare più avanti, stiamo andando tutta gente, tutti in depressione stanno andando, quindi non sappiamo cosa fare, noi blocchiamo tutto, blocchiamo qua. Strada statale 106, ionica, bloccata, c'è tanta amarezza e preoccupazione per il futuro di tante famiglie. Purtroppo è brutto lo stato d'animo perché stiamo attraversando una situazione molto brutta in questo periodo. Speriamo che si risolva il più presto di tutto. Ve lo auguriamo. Grazie tante. E dopo l'annuncio del governo sullo commissariamento di Acceglieri d'Italia, la politica si interroga sullo possibile scenario che si prospetta in vista dell'amministrazione straordinaria. Preoccupa dunque l'indotto, come abbiamo visto anche nel servizio. Il governo mette le carte in tavola dopo la rottura definitiva a quei Mittal pronti ad investire altrove. Amministrazione straordinaria entro due settimane, prestito ponte da 320 milioni di euro, ricerca di nuovi soci privati. Il decreto legge firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella ha l'obiettivo di salvaguardare la continuità produttiva, tutelare l'occupazione. L'amministrazione straordinaria è dietro le porte. Non c'è la certezza, ma sicuramente è un'ipotesi concreta. Non per niente il governo è intervenuto con un decreto garantendo i lavoratori, garantendo la cassa integrazione, la prosecuzione quindi degli ammortizzatori sociali nei confronti dei lavoratori, fatta eccezione di quelli che si occuperanno della manutenzione e della sicurezza che invece continueranno a lavorare. Si sta facendo la commissione proprio per cercare di guidare anche le aziende dell'indotto, anche perché l'occupazione sta anche là. Quindi diciamo che bisogna salvaguardare sia le aziende che l'ILVA. L'amministrazione straordinaria mette in allarme proprio le aziende dell'indotto che temono di non vedere soddisfatti i crediti milionari, 120, vantati nei confronti di acciaierie d'Italia. Se l'amministrazione straordinaria deve essere, avvenga con un fondo straordinario, l'ho detto in aula, lo ribadisco qui, di un miliardo immediatamente, lo voteremo anche noi per garantire alle imprese dell'indotto le risorse. Perché se si fa un'amministrazione straordinaria e non si garantiscono le risorse alle imprese creditrici, facciamo un altro crack. E Taranto, in generale, l'Italia e la siderurgia non possono permettersi. Noi da tempo chiediamo un accordo di programma che vincoli tutti i governi che si succedono a seguire un percorso di diversificazione industriale, di bonifiche e soprattutto di riconversione economico, sociale e culturale di Taranto con una serie di tutele a favore dell'indotto e dei lavoratori. E lasciamo l'argomento Exilva Siderurgia con tutte le sue problematiche e ci occupiamo invece delle comunali a Bari. Il Partito Democratico riunisce la segreteria, ma senza prendere di petto, la candidatura sindaco dell'assessore all'ambiente Pietro Petruzelli. Si riparte dunque dalla ricerca di un nome unitario e dall'ascolto dei circoli. Nessuna fumata bianca, ma la volontà di ripartire da una nomination unitaria da proporre alla coalizione per sbloccare l'impasse nel centro-sinistra barese. Il PD riunisce una doppia segreteria regionale e provinciale, ma senza prendere di petto la candidatura a sindaco di Bari dell'assessore all'ambiente Pietro Petruzelli. Il PD c'è compattamente nel capoluogo. Come in provincia riassume chi c'era il jolly. Potrebbe averlo al suo interno, vista la terna congelata mesi fa. Alla presenza del capogruppo al Senato, Francesco Boccia, l'uscente Paola Romano, il deputato Marco Lacarra e lo stesso Petruzelli, appunto, la parola d'ordine e sintesi. Per arrivarci c'è una campagna di ascolto in corso, aperta dai consiglieri comunali, che ricalcano la geografia della terna e che passa dalla base dei circoli. L'ipotesi che porta al capo di gabinetto uscente, Vito Leccese, non vede primarie e prevede invece un'unità al momento lontana. Visto che resta fermo sulle sue opposizioni, il penalista ed ex presidente della giusta causa, Michele Laforgia, e visto che il Movimento 5 Stelle tace anche dopo il passo in avanti di Petruzelli. Io racconto dappertutto questa incomprensione proprio nel diato proprio lì, ma nella visione politica. Ancora presto per capire se il silenzio possa essere l'anticamera di un endorsement all'area della convenzione, il mantra è quello dell'unità, ma si mettono in conto tutti gli scenari. E' ora la pagina della cronaca. All'ultima ora il nostro collega Michele Giurlaro scrive sul nostro sito Francavilla Fontana, rapinatori messi in fuga dai clienti di un bar. Caccia ai banditi. Una rapina in un supermercato a San Pancrazio Salentino e poi un colpo tentato in un bar di Francavilla Fontana. I carabinieri della compagnia della città degli imperiali sono a caccia dei misteriosi banditi in azione nella serata di ieri. Il primo episodio a San Pancrazio dove poco dopo le 20 due persone incappucciate e armate di pistole hanno fatto irruzione nel supermercato Eurospin, portando via 600 euro ed anche la borsa di una cliente. Poco dopo, da quanto appreso, si tratterebbe sempre degli stessi rapinatori. Due uomini hanno minacciato dipendenti e avventori di un bar di Francavilla situato in via Oria, ma sono stati messi in fuga dai presenti. In entrambi i casi i forfanti sono fuggiti a bordo di un'auto ritrovata in fiamme dai militari nelle campagne del borgo federiciano. Ed andiamo avanti sempre con la cronaca. Ci spostiamo invece a Barletta. Un arresto, due misure interdittive e un sequestro di circa 6 milioni di euro. E questo è il bilancio dell'operazione Cassetto Distratto portato a termine dalla Guardia di Finanza dell'Abbate. I dettagli nella conferenza stampa delle fiamme gialle convocata per ieri. È stata appunto convocata una conferenza dove hanno spiegato i particolari di questa truffa al Superbonus. Un arresto e due misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale, oltre ad un sequestro di circa 6 milioni di euro. E' questo l'esito dell'operazione della Guardia di Finanza dell'Abbate con il comando provinciale di Barletta e il nucleo di polizia economico-finanziaria che hanno scoperto una truffa nell'ambito delle erogazioni pubbliche relativi ai sisma bonus e ai bonus facciate. Le fiamme gialle hanno scoperto un sistema che collegava Roma e Barletta in un'attività illecita che ha coinvolto un imprenditore della grande distribuzione con interessi economici nei tre capoluoghi della sesta provincia pugliese. Il meccanismo della truffa era l'utilizzo dei crediti d'imposta che si sono formati attraverso l'utilizzazione di tutte quelle agevolazioni statali bonus facciate e quindi attraverso la creazione dei cassetti fiscali di quello che erano dei crediti per poi essere utilizzati dalla società per compensare altre imposte. hanno costruito questa rete utilizzando dei prestanomi che hanno chiesto dei crediti all'Agenzia delle Entrate crediti evidentemente inesistenti da utilizzare per lavori mai eseguiti e su particelle immobiliari allora non riconducibili. Questi crediti venivano poi successivamente ceduti a una società anche questa interposta questa società interposta vendeiva i crediti a ulteriori società che di fatti invece li utilizzavano per compensare diciamo le imposte reali quindi lo Stato non incassava più le imposte perché venivano compensate con questi crediti inesistenti. Cosa fa chi si sottrae? Prende le attività quindi prende i contratti attivi ad esempio i contratti d'erogazione dai fitti attivi che poi sono di caso, diremmo di azienda, non vuol dire e le cede cioè quindi si spoglia di beni affinché lo Stato non li aggerisca. E da Barletta ci spostiamo in provincia dei Brindici ed esattamente a Celle Messapica traffico di droghe, i carabinieri hanno arrestato 5 persone. Lab dello Spaccio era un appartamento a ridosso del centro storico di Celle Messapica era da lì che un 42enne disabile costretto sulla sedia a rotelle avrebbe trafficato la sostanza stupefacente in particolar modo cocaina ed eroina con l'aiuto di fratello e sorella tutti e tre destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP e all'alba di venerdì arrestati dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni con il supporto dello squadrone eliportato e del gruppo cinofili ai domiciliari altre due persone coinvolte in un'inchiesta in cui in totale sono 14 gli indagati a dare il via alle indagini dei militari della locale stazione insospettiti da un insolito biavai di presunti acquirenti il rinvenimento di una piccola dose di cocaina nel maggio del 2022 da lì gli investigatori avrebbero accertato una settantina di gestioni particolarmente rilevante il ruolo della donna che secondo l'accusa formulata dalla procura di Brindisi avrebbe spacciato la droga anche in presenza di minori addirittura avvalendosi dell'aiuto di una bambina di 10 anni l'indagine e l'esecuzione odierna ha fatto emergere l'esistenza di un gruppo su Ceglie Messapica appunto che era diventato come dire referente stabile degli acquirenti di stupefacenti nella cittadina cegliese l'operazione di Ceglie è bissa quella dello scorso mercoledì quando i carabinieri di Francavilla Fontana arrestarono altri sei presunti trafficanti segno dell'attenzione dell'arma ai fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti è un'attività quella del mercato degli stupefacenti è uno dei settori attenzionati come dire seguiti in particolare dall'arma dei carabinieri di Brindisi proprio perché il mercato dello stupefacente ancora una volta si rivela particolarmente appetibili per le organizzazioni criminali visti i lucri che da questo ne derivano E ancora cronaca Mizia, questa volta giudiziaria Mizia presso la corte d'assiste di Taranto il processo per l'omicidio del 21enne ricordato, lo ricordiamo, trovato senza vita in una scarpata a Manduria nel Tarantino Ha preso il via davanti al presidente della corte d'assiste Filippo Editodaro e alla corte il processo per la morte violenta di Natale Naser Bayerì il ragazzo di 21 anni trovato senza vita in una zona di campagna ai piedi di un viadotto a Manduria nel Tarantino dopo alcuni giorni di indagini di inquirenti hanno individuato i presunti responsabili dell'omicidio del giovane e hanno fermato e poi arrestato tre persone ritenute responsabili a valutitolo dell'assassinio si tratta di tre giovani un 19enne, un 22enne di Manduria e un 22enne di Grottaglie che dovranno rispondere ora dell'accusa di concorso in omicidio pluriaggravato i giovani devono rispondere anche di tentativo di soppressione di cadavere e rapine delle aggravanti dell'aver agito con crudeltà e del metodo mafioso le indagini sono state portate avanti dagli uomini della squadra mobile della questura di Taranto coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce che è competente per territorio e ha coordinato l'inchiesta secondo quanto ricostruito dal PM Emilto Stefano De Nozza l'omicidio sarebbe avvenuto altrove e solo successivamente il cadavere della vittima sarebbe stato portato sul posto il corpo senza vita del 21enne di origine Montenegrin residente a Campi Salentina in provincia di Lecce era stato trovato la mattina del 23 febbraio scorso ai piedi di una scarpata nei pressi di Manduria sulla strada che dal Tarantino porta a Oria nel Brindisino Natale Naser Baiari sarebbe stato stiviziato o ucciso prima di essere trasportato sul posto e gettato nella scarpata in aula il PM Stefano Milto De Nozza e gli avvocati hanno esposto e valutato le questioni per i minari per poi entrare nel vivo delle richieste del pubblico ministero chiedo altresì di acquisire i decreti autorizzativi dell'acquisizione del traffico telefonico nonché chiedo di acquisire le foto dei tatuaggi perché questa richiesta di prova perché lei vedrà che nel capo di imputazione c'è una quota del fatto dedicato a questo episodio ed è stato tratto in arresto Saverio Piscitelli il 72enne agricoltore di Canosa che uccise a colpi di arma da fuoco Giuseppe Vassalli per l'omicidio delle cinquantenne Piscitelli dovrà scontare l'ergastolo la condanna definitiva era arrivata lo scorso 11 gennaio tratto in arresto dalla polizia di stato Saverio Piscitelli che dovrà scontare una condanna all'ergastolo il 72enne di Canosa è finito in manette dopo la condanna definitiva per l'omicidio di Giuseppe Vassalli 50 anni agricoltore canosino ucciso a colpi di arma da fuoco le indagini condotte a partire dal 2016 all'epoca dei fatti permisero di ritrovare il corpo della vittima in aperta campagna dove non vi erano né testimoni né altri elementi utili per accertare la dinamica dell'accaduto solo con i successivi accertamenti svolti con l'ausilio della polizia scientifica e attraverso una minuziosa ricostruzione della vita della vittima si risalì ad un vecchio e durissimo contrasto tra Piscitelli e Vassalli dovuto alla gestione delle acque della contrada nella quale i due erano proprietari agricoli confinanti Vassalli alcuni anni prima era subentrato a Piscitelli nell'amministrazione del pozzo che garantisce l'irrigazione dei terreni incontrata a Sant'Antonio nell'agro di Canosa con la sua gestione Vassalli aveva fatto emergere e denunciato gli ammanchi e le appropriazioni compiute da Piscitelli quando era amministratore quest'ultimo aveva giurato che si sarebbe vendicato il 31 ottobre 2016 si recopresso il suo fondo e sparò al Vassalli le indagini tecniche permisero di accertare il movente ed emerse inoltre che Piscitelli aveva sparato con un fucile detenuto illegalmente mai ritrovato dopo la condanna in primo grado e l'assoluzione in appello che lo aveva rimesso in libertà la Cassazione aveva annullato l'assoluzione e rinviato alla Corte di Appello di Bari che aveva condannato all'ergastolo Piscitelli condanna divenuta definitiva l'11 gennaio scorso gli agenti del commissariato di Canosa lo hanno tratto in arresto prelevandolo dalla sua abitazione e lo hanno condotto presso la casa circondariale di Trani dovrà scontare l'ergastolo e c'è un terzo indagato a piede libero nel procedimento giudiziario avviato dalla procura di Trani nei confronti di Francesco Nemore e Giacomina Battista il direttore di radiologia di Trani e la sua infermiera finiti ai domiciliari con l'accusa di aver chiesto soldi ai pazienti per saltare le liste di attesa c'è una terza persona coinvolta e indagata nell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari Francesco Nemore direttore di radiologia del presidio territoriale di assistenza di Trani e l'infermiera Giacomina Battista entrambi accusati di concussione peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato il terzo indagato è un impiegato barlettano dell'ufficio CUP della ASLBAT secondo l'accusa coordinata dal PM Francesco Tosto e ritenuta fondata dal GIP Domenico Zeno che ha concesso le misure cautelari i tre avevano ideato un ingegnoso metodo per far saltare le liste d'attesa ai pazienti tutto si basava sul principio della proprietezza che può essere attivato dal primario di una struttura il quale può far saltare le liste d'attesa ai pazienti i fatti risalirebbero al periodo tra febbraio e marzo dell'anno scorso in tutta una trentina ai casi accertati a inchiodare i protagonisti della vicenda le intercettazioni ambientali audio e video che hanno dimostrato come i due arrestati approfittando dello stato di soggezione psicologica in cui si trovavano i pazienti li costringevano e inducevano a consegnare loro somme di denaro che variavano dai 100 ai 150 euro sarebbe emerso inoltre che anche i pazienti traevano un beneficio economico perché con questo sistema di fatto pagavano meno di quanto avrebbero dovuto pagare di ticket al sistema sanitario e proprio per questo motivo la difesa potrebbe chiedere una diversa qualificazione del reato riducendolo alla sola truffa ai danni dell'azienda sanitaria della sesta provincia pugliese l'interrogatorio di garanzia avverrà la prossima settimana mentre sabato 20 gennaio è stato fissato l'accertamento tecnico irripetibile per l'estrazione dei contenuti dei dispositivi tecnologici sequestrati tra cui telefonini e computer e lasciamo la cronaca via Manduria la terza edizione di legalità e giustizia presenti anche il questore di Taranto Massimo Gambino sul tavolo di discussione i recenti episodi di violenza avvenuti nel centro storico della città non poteva essere più attuale più necessario più bruciante il dibattito sulla legalità che si è tenuto nella sala consigliare a Manduria sul tavolo della terza edizione di legalità e giustizia la dilagante delinquenza giovanile concentrata soprattutto nel centro storico della città messapica Manduria è una città chiaramente che ha i suoi problemati come tante città del sud è una città che comunque dove possiamo dire ieri c'è stato anche un incontro tematico del prefetto con tutte le forze di polizia anche col sindaco in cui si è discusso di quelle che sono le situazioni le situazioni di una qualsiasi cittadina di grosse dimensioni dell'Interland Tarantino ultimamente abbiamo cercato di rinforzare il commissariato certamente si può fare di più faremo di più è quello a cui tendiamo e quindi sicuramente l'attenzione è massima da parte di tutti dal prefetto in primis tante le forze dell'ordine presenti autorità politiche una sala gremita di cittadini insieme dobbiamo dare una svolta con la collaborazione di tutti c'è bisogno di senso di responsabilità ha spiegato il prefetto di Taranto Paolo Adessi siamo preoccupati vogliamo porre rimedio non giriamoci dall'altra parte ha spiegato invece il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro che abbiamo incontrato la presenza delle forze di polizia della polizia locale credo che stia invertendo la rotta cioè diciamo un certo controllo sul territorio ci sono attraverso diversi mezzi uomini potrebbero esserci di più però i mezzi che stiamo adottando sicuramente daranno maggiori risultati e maggiore sicurezza diciamo all'ordine pubblico al centro ci sono proprio i giovani i ragazzi che stanno vivendo questa tensione tu ti senti tranquilla? no no chiaramente no però ho fiducia nel futuro ecco ed ora parliamo del maltempo dal nostro sito Francesco Cutro parla di maltempo scuole chiuse a Potenza e altri comuni nella giornata di oggi il sindaco di Potenza Mario Guarenti ha disposto la chiusura straordinaria e temporanea delle scuole di ogni ordine grado della città di Potenza escluso le strutture educative degli asili nido e le siedi universitarie cittadine nella mattinata di oggi a seguito dell'alerta meteo diramata dalla protezione civile è sentito l'ufficio di protezione civile comunale per repentino abbassamento delle temperature e le previste precipitazioni nevose il presidente dell'Anci Andrea Bernardo informa che oggi per le previste avverse condizioni atmosferiche diverse scuole rimarranno chiuse in diversi comuni e abbiamo l'elenco dei comuni potete vedere sul nostro sito mentre per quanto riguarda la provincia di Matera il solo comune di Stigliano ed è allerta meteo gialla anche su tutta la Puglia a partire da oggi e per le successive 18 ore si prevedono precipitazioni sparse nevicate al di sopra dei 400-600 metri sul livello del mare sulla Puglia centro-settenzionale con apporti al suolo moderati ed ora parliamo di un bilancio quello della Polizia locale di Bari e nel comando proprio della Polizia locale di Bari le statistiche sull'ultimo anno di interventi sono numeri davvero importanti ho promesso un mese fa che se avessero continuato così gli avrei fatto un video contro facessero quello che vogliono io devo dire ai cittadini quello che sta succedendo una diretta social che diventa un caso nelle scorse ore il sindaco di Bari Antonio De Caro interviene a gamba tesa tramite i suoi canali Facebook e Instagram sulla questione che riguarda il ripristino del manto stradale dopo i lavori sui sottoservizi della città che nei prossimi mesi riguarderanno più quartieri del capoluogo il primo cittadino sbotta dall'intersezione tra via Dante e via Andrea da Bari in pienissimo centro dove sono finiti da poco i lavori Enel il manto stradale ripristinato presenta numerose difformità sarebbe troppo alto in alcuni punti mentre in altri creerebbe delle vere e proprie collinette il che non va bene per la viabilità pedonale soprattutto delle due ruote in riferimento alla tragica morte del sedicenne Matteo Cappelluti è venuto a metà novembre scorso sul corso De Gasperi e probabilmente per l'asfalto ripristinato male dopo dei lavori sui sottoservizi è automatico il giovane pare abbia perso il controllo della sua moto proprio a causa del manto stradale particolarmente sconnesso di certo non ci possiamo tenere i ripristini così il problema è che loro affidano ad aziende esterne che poi subappaltano che poi subappaltano e questi sono i risultati che abbiamo quando fanno i ripristini e di qui l'ira del primo cittadino che non nasconde tutto il suo malumore e spiega che aveva avvertito tutte le 11 aziende che lavorano sui sottoservizi della città che se non avessero ripristinato in maniera adeguata li avrebbe sanzionati intanto a poche ore dalla denuncia social del primo cittadino sul posto arrivano tecnici e ingegneri dell'Enel e probabilmente delle ditte alle quali era stato appaltato il lavoro nella speranza che tutto si risolva nel più breve tempo possibile e qualcuno non si faccia male ecco il servizio era praticamente riferito alla diretta social del sindaco De Caro per quanto riguarda come abbiamo visto nel servizio il ripristino del manto stradale ed ora ci occupiamo così come avevo preannunciato del bilancio della polizia locale di Bari numeri importanti emergono dalle ultime statistiche sulle attività della polizia locale di Bari per il 2023 il dato più significativo è quello riferito all'aumento medio del 20% delle sanzioni amministrative al codice della strada rispetto all'anno precedente ma anche quello in materia di infortunistica stradale dove sono stati rilevati oltre 3.300 incidenti che rispetto ai meno 3.000 del 2022 evidenziano un impegno maggiore non soltanto nel centro abitato ma anche sulle strade extraurbane ne ha parlato il comandante della polizia locale di Bari Michele Palumbo Ora le statistiche denotano l'attività significativa della polizia locale di Bari sul territorio comunale l'attenzione naturalmente sul numero delle sanzioni rilevate perché in conseguenza di oltre 170 unità che sono state inserite in servizio nel 2023 abbiamo avuto un impegno più significativo nei servizi esterni di viabilità Poi c'è il progetto Siamo tutti pedoni e quindi Bari fa parte aderito anche a questo momento progettuale condiviso dal Ministero da Anci nazionale anche sulla maggiore attenzione su individuare le strade che hanno una velocità massima non superiore ai 30 km orari questo significa più sicurezza sulle strade perché avere più strade con una velocità massima non superiore ai 30 km orari significa più attenzione verso i pedoni degli utenti deboli della strada quindi puntare anche su questo obiettivo credo che sia importante nei prossimi anni aumenta la sicurezza della strada sia quella percepita che poi quella effettiva riscontrata sul territorio Ed ora il meteo poi spazio alla pubblicità ritorneremo in diretta con le notizie di Antena Sud Nuovamente in diretta ad ora ci occupiamo invece abbiamo visto prima per quanto riguarda il bilancio della Polizia Locale di Bari ora parliamo invece della carenza di personale per quanto riguarda la Polizia Locale di Foggia Foggia la città di Foggia la provincia di Foggia dove c'è e lo ripeterò sempre fino alla nausea una mafia sempre più agguerrita e violenta dove ci sono reati che sono veramente molto molto forti non possiamo permetterci di perdere il controllo del territorio si tratta dell'ennesimo appello rivolto al governo da parte del sindacato autonomo di Polizia della provincia di Foggia per scongiurare il pericolo che il personale della questura sia ridotto ai minimi termini a fronte delle 890 unità di cui la provincia una delle più estese e critiche a livello nazionale dovrebbe disporre quelle in forza attualmente nella pianta organica sono poco più di 700 in queste ore alla tavica criticità della carenza di risorse umane si è aggiunta anche la perplessità della destinazione delle uniche 10 nuove risorse inviate dal ministero al servizio H24 presso l'aeroporto Ginolisa di Foggia che cosa è successo ultimamente che da qualche tempo è aperto l'aeroporto Ginolisa di Foggia bellissima cosa siamo contenti i foggiani e quelli della provincia sono contentissimi e speriamo che vada sempre così è un nuovo servizio di polizia un servizio di polizia dove ci sono almeno da impiegare 15 persone allora dico se c'è un nuovo servizio tu ministero devi sapere che questo servizio c'è e vuoi mandare le risorse per fare questi servizi non puoi permetterti di prendere le risorse destinate alla questura agli uffici della questura e mandarli in un servizio che se lo vuole così facendo non solo noi siamo sotto organico non solo i servizi sono aumentati del 50 60 100% in alcuni casi non solo questo non abbiamo il materiale umano per poter effettuare tutto questo e chi ci rimette comunque sono i cittadini e tutti i colleghi che non possono anche in questo caso avere quanto rispetta e torniamo a parlare un attimo delle sfide dell'economia perché la stampa parla appunto di una manovra non in linea opposizioni all'attacco poi la frenata di Bruxelles e si parla appunto delle privatizzazioni a perdere cedere quote di eni e poste ridurrebbero poco il debito e costerebbe la rinuncia ai dividendi il 4% del gruppo queste appunto le notizie per quanto riguarda le sfide dell'economia e poi ci sono anche spese di Stato da tagliare nonostante la riduzione dei parlamentari i budget di Camera e Senato sono cresciuti la colpa è delle inflazioni e delle bollette quindi lievita anche il costo di tutti gli staff di governo i nostri dirigenti sono i più pagati d'Europa questo appunto per quanto riguarda le sfide dell'economia il primo piano torniamo a parlare invece di politica prima le elezioni del presidente della provincia di Foggia poi quelle del consigliere segretario in consiglio regionale e ancora lo scioglimento del comune di Manfredonia fino alle amministrative di Foggia e sono questi i fattori che avrebbero portato alla definitiva rottura tra Napoleone e Cera e la stessa Forza Italia vediamo il servizio io mi auto escludo nel senso che non parteciperò al congresso insieme a me lo faranno tanti tanti amministratori amici della provincia di Foggia è un problema di fondo è un problema di dialogo con il partito nazionale di Forza Italia su problemi irrisolti che ritengo irrisolti prima le elezioni del presidente della provincia di Foggia poi quella del consigliere segretario in consiglio regionale e ancora lo scioglimento del comune di Manfredonia fino alle amministrative di Foggia sono questi fattori che avrebbero portato alla definitiva rottura tra Napoleone c'era espressione in consiglio regionale con la stessa Forza Italia un'autosospensione ci tiene a sottolineare dalla vita e dall'attività del partito il consigliere regionale li annunciano nascondendo anche un velo di amarezza per quanto accaduto non mi sento supportato spiega dopo aver ripercorso gli eventi che lo hanno portato a questa decisione e che non lo vedranno questo fine settimana partecipare al congresso provinciale del partito resta intatta intanto la fiducia alla linea del presidente del gruppo consigliere alla regione Paride Mazzotta che lo porta a rimanere comunque nella compagine di Via Gentile beh con il coordinatore dati se non lo sento da parecchio tempo per questo ho chiesto anche al partito nazionale di intervenire su tematiche che mi sembrano giuste anche in vista del congresso di Foggia ed è per questo che ho deciso di autosospendermi da Forza Italia di non partecipare alla vita attiva del partito di Forza Italia chi l'appoggia in questa battaglia? beh ci sono tantissimi amministratori della provincia di Foggia sindaci consiglieri comunali assessori che sono con me e parliamo ancora di politica due promesse sempre dalla stampa un solo posto e questa l'ultima grana per Salvini e sulle liste per quanto riguarda l'Europa e parliamo invece di raccolta ora differenziata dalla prossima settimana parte la raccolta differenziata porta a porta nel municipio 4 e nel municipio 2 di Bari via i cassonetti stradali nella notte tra il 22 e il 23 gennaio prossimi nel quarto municipio e nel municipio 2 a Bari dal giorno seguente tutte le utenze domestiche non dovranno utilizzare i contenitori distribuiti da Amio Puglia SPA i cittadini possono ritirare i kit nelle postazioni fisse allestite nel mercato di via Vaccarella Carbonara o in alternativa nella sede Amio di Sceglie il kit può essere ritirato dall'intestatario della Tari munito di codice fiscale o da un delegato a seguito della compilazione del modulo disponibile sul sito www.amiopuglia.it da martedì 23 gennaio parte la raccolta differenziata porta a porta nel quarto municipio una novità che interesserà oltre 40.000 cittadini vediamo se tutti hanno recepito le linee guida io ho capito come funziona spero che anche gli altri l'abbiano capita certo certo lei ha capito come funziona questa raccolta differenziata porta a porta non lo so è il mio genere che se la vede di tutto dei bidoni della mondizia un po' sì non lo so lo stesso che ha detto lei io abito in un appartamento di 10 persone quindi non so ancora c'è chi ha recepito chi ha ancora dubbi chi segnala criticità che cosa dobbiamo buttare il venerdì devo tenere sempre la porcheria sopra in casa la mattina abbiamo paura come troviamo i bidoni perché la multa il nome nostro deve stare ma che serve che intervistate la gente non serve non serve e la politica ma che deve fare una donna di 80 anni una di 90 che cosa deve raccogliere siamo coscienziosi qui è tutta questione di politica stop e parliamo sempre di raccolta rifiuti dipendenti di ecotecnica l'azienda che svolge il servizio di raccolta di rifiuti in nove comuni della provincia di Lecce si sono ritrovati dinanzi la sede municipale di Ugento per un settino di protesta questa è la seconda volta che ci presentiamo qui a comune di Ugento con cui sogni ancora niente continua la protesta dei dipendenti di ecotecnica l'azienda che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Ugento presiccia acquarica in altre sette città della provincia di Lecce gli operatori ecologici accompagnati dalle varie organizzazioni sindacali di appartenenza si sono ritrovati ancora una volta dinanzi alla sede municipale di via acquarica per un sit-in di protesta al termine dell'orario di lavoro ad oggi secondo quanto fanno sapere i rappresentanti sindacali il personale operante a presiccia acquarica e Ugento non ancora percepito nello stipendio di dicembre nel versamento della tredicesima pur continuando a lavorare inoltre in condizioni di sicurezza non idonee oggi siamo qui per cercare di risolvere o dare delle risposte a questi lavoratori di ecotecnica che si trovano in grandi difficoltà sia sotto l'aspetto del pagamento e delle attribuzioni che sotto l'aspetto delle condizioni lavorative speriamo che l'incontro che abbiamo richiesto con le associazioni sindacali e con l'amministrazione sia risolutivo e possa darci delle risposte che attendiamo da oramai troppo tempo e non sono più rinviabili Cobas e Falpis ribadiscono nuovamente la necessità di un incontro con l'azienda e i comuni interessati per venire incontro alle esigenze dei lavoratori continueremo la battaglia fino alla fine non si può andare avanti così sono due anni che andiamo avanti in queste condizioni le famiglie purtroppo non hanno da mangiare continueremo la battaglia e non possiamo dimenticare i conflitti in corso Pakistan ed Iran ad esempio la stampa di oggi titola Pakistan ed Iran verso la distensione un'altra crisi e non conviene a nessuno parla uno dei massimi storici pakistani dice la rivalità tra i due paesi risale ai tempi della guerra Russia-Afghanistan ma uno scontro aperto oggi può aprire spazi per il risveglio del terrorismo ma anche del conflitto etnico ed ancora ci spostiamo invece sul muro dei Baltici l'accordo tra Estonia Lettonia e Lituania per creare una linea di difesa al confine con la Russia e la Bielorussia temiamo un'invasione militare sospetti su attacchi ibridi di Mosca e questo appunto il titolo della stampa per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente e invece ci spostiamo invece a Brindisi dove tutto pronto per iniziativa contro il deposito GNL Edison tuttante le enologie con il 2006 quando la città scese in piazza contro il rigassificatore anche se questa volta maggioranza e opposizione al comune non sono unite come allora e sale dunque l'attenzione c'è una protesta il solito SS ambientale quello di incidente rilevante c'è la contrapposizione con l'emergenza occupazionale la presa di posizione dell'industriale e quella dell'autorità portuale gli elementi a Brindisi sono sempre gli stessi e la mente torna al 2006 quando la città scese in piazza contro il rigassificatore della British Gas oggi una nuova protesta c'è Edison stavolta a spaccare l'opinione pubblica e il suo progetto di realizzazione del deposito GNL beh c'è qualche analogia ma c'è una grande differenza perché all'epoca noi avevamo persone guardate come Michele Enrico presidente della provincia il sindaco Mennitti che difesero questa città questa foto ci ritrae all'uscita del ministero andiamo al ministero ad esporre le ragioni qui invece i cittadini si trovano soli ho letto ieri una dichiarazione del sindaco non c'è niente da fare noi abbiamo una richiesta il consiglio comunale il 15 dicembre all'unanimità rappresentati dai suoi capigruppo ha scritto al ministero evidenziando varie criticità e il sindaco mi dice non posso fare niente insomma è stupefacente questi erano gli uomini che hanno protetto la città di Brindisi noi finché non ci saranno questi allora i cittadini sono soli e devono assolutamente mobilitarsi Brindisi dunque torna in piazza anche se il fronte del no sembra molto meno compatto rispetto a quello del 2006 oggi come allora però si contestano i dati offerti dall'azienda in merito al reale ritorno occupazionale assolutamente no ma sul piano occupazionale questo progetto porterà al regime soltanto 26 circa posti di lavoro e tengo a precisarlo non è sono sempre importanti anche un solo posto di lavoro in questa terra veramente martoriata con degli indici inoccupati importante il problema che però è pregiudizievole per un altro tipo di sviluppo che potrebbe portare invece migliaia di posti di lavoro il capogruppo del partito democratico di lecce Antonio Rotundo sottolinea la necessità ma anche l'urgenza per quanto riguarda la realizzazione di una rotatoria tra via Lupi e via Bari un incrocio pericoloso che rende la viabilità in quel tratto da sempre poco chiara portando gli automobilisti a infrangere il loro malgrado il codice della strada è quello che lamenta il capogruppo del PD di lecce Antonio Rotundo che ha presentato un'interpellanza urgente per risolvere la questione risulta necessaria una rotatoria tra via Lupi e via Bari sì necessaria e anche diciamo urgente nel senso che da tempo si rende necessario riordinare quell'incrocio per renderlo più fluido più ordinato e anche più sicuro perché per chi viene dalla rotatoria di via del mare andare in via Bari diventa particolarmente complicato e molti molte volte trasferiscono la norma e fanno una svolta che non potrebbero fare per questo io credo che l'amministrazione comunale in consiglio comunale accoglierà la mia proposta e si adopererà nel senso da mia richiesta effettivamente è urgente perché quella manovra la fanno in tanti secondo lei in quanto tempo potrebbe essere realizzata? ma il tempo diciamo quello che è richiesto dalle procedure dell'approvazione di un progetto del relativo appalto intanto io chiedo che nell'emore della realizzazione della rotatoria si faccia quella con il jersey quella diciamo provvisoria per già abituare diciamo gli automobilisti diciamo a svoltare in maniera regolare prefigurando quella che sarà la rotatoria effettiva ed ora ci occupiamo di un'altra annosa questione un caso che fa discutere in questi mesi la stampa titola la battaglia di medici ma anche di infermieri fateci lavorare di più nel privato il sindacato vuole far uscire la categoria dal recinto della pubblica amministrazione avremmo così stipendi migliori e si abbatterebbero le liste di attesa incassato lo scudo penale contro le cause temerarie per medici e infermieri si avvicina il momento del cosiddetto colpo grosso l'uscita dal recinto della pubblica amministrazione per diventare categoria speciale così come i magistrati ed essere meglio retribuiti il tutto cancellando le norme sull'esclusività di lavoro nel pubblico per poter scorazzare liberamente nel privato dove a condizioni economiche migliori contribuire ad abbattere dunque le liste di attesa i primi contatti informali con il governo ma anche con lo stesso ministro oggi sono equiparati ai lavoratori pubblici l'obiettivo è quello di diventare una categoria speciale i medici svolgono fino a 60 ore a settimana in ospedale in un anno arriviamo a 5 milioni di ore non pagate negli ultimi l'emergenza negli ultimi tre anni si stima che 40 mila medici abbiano lasciato l'italia per andare all'estero dove trovano condizioni economiche lavorative migliori e tra le proposte un tetto all'orario con più libertà anche di prestare servizio fuori ma c'è anche un altro caso quello riguardante i disturbi alimentari l'urlo delle piazze i fondi non bastano e c'è stata una manifestazione in tutta Italia agli studenti ci sono 4 mila morti l'anno e di disturbi alimentari si muore ma si può anche guarire con cure adeguate ma anche tempestive servono risorse l'appello al governo dopo il mancato rinnovo nella legge di bilancio del fondo dedicato arriva da decine di piazze italiane dove ieri si sono radunati associazioni professionisti ma anche studenti tra striscioni palloncini anche famiglie e pazienti l'impegno del ministro della salute schillaci che dopo le polemiche di questi giorni ha annunciato 10 milioni nel decreto mille proroghe ma anche una serie di prestazioni gratuite secondo i manifestanti però non basta i disturbi alimentari non sono una nostra scelta ci state tagliando il futuro e lo slogan della protesta che a Roma si è dato appuntamento davanti alla sede del ministerio poi tante altre voci da Torino a Palermo la fondazione Fiocchetto Lilla l'ha definita una mobilitazione della società civile e ha inviato una lettera al ministro i 10 milioni sono bruscolini se pensiamo a 20 regioni ma anche alla mancanza di centri specializzati esiste una legge la finanziaria del 2022 che prevede un budget autonomo per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza vogliamo il rispetto di quella legge questo quanto dicono appunto le piazze anoressia la protesta di ieri bulimia sono considerate malattie psichiatriche e a soffrirne sono circa 4 milioni di italiani la metà a meno di 25 anni è un'epidemia silenziosa dice noi studenti siamo in prima fila perché attraversiamo l'età di maggiore rischio le briciole non ci bastano chiedono gli studenti investimenti strutturali nel sistema sanitario nazionale oggi un ricovero per queste patologie è un privilegio perché le strutture specializzate sono prevalentemente private e non tutti hanno la possibilità economica le famiglie sono costrette a spostarsi spendendo anche 300 euro al giorno le associazioni dicono mancano appunto strutture specializzate e le liste di attesa sono infinite nel frattempo si denunciano appunto queste liste di attesa tra 6 e 12 mesi e parlano di circa 4 mila morti l'anno per mancanza di cure un'emergenza sanitaria ma anche un'emergenza sociale si taglia dicono in un momento in cui i numeri di malati sono in aumento stanno giocando sulle vite delle persone questa appunto la notizia che riguarda i disturbi alimentari ma anche l'urlo delle piazze i fondi non bastano ed ora ci spostiamo a Bari per un degrado un'immensa discarica a cielo aperto ma che passa quasi inosservata pur non essendo troppo lontana dal centro abitato a Bari questo succede a pochi passi dallo storico ipogeo di Santa Candida in una Bari che si candida ad essere città sempre più turistica ed attrattiva c'è purtroppo anche l'altra faccia della medaglia perché il degrado cittadino a volte esiste ed è presente anche se non si vede nelle periferie ma anche nei quartieri dove apparentemente regna la calma più assoluta qui ci troviamo in zona Don Guanella di fatto al confine ma anche qualcosa in più tra i quartieri Carbonara e Poggio Franco a due passi dalla tangenziale a uno soltanto dalla chiesa rupestre di Santa Candida immersa nel verde ipogeo storico e dallo stesso tempo un tesoro dimenticato o meglio da valorizzare ancora di più che però è circondato da abbondante degrado le immagini parlano chiaramente immensa quantità di rifiuti che si perde nella natura in mezzo a quegli alberi d'ulivo che sono parte integrante della storia e della tradizione pugliese immagini che stridono con le bellezze che il territorio sa offrire un paradosso quasi una specie di polvere nascosta sotto il tappeto cattivi odori vista sgradevole rifiuti e oggetti inutilizzati di tutti i tipi anche nelle strade adiacenti e che conducono questo stesso ipogeo oltre che una conclamata serie di reati ambientali su cui da tempo ci si batte per eliminarli a livello regionale ecco la speranza è che anche da queste immagini si possa condurre con maggior vigore una battaglia per arginare un triste fenomeno e altri case presso la sala consigliare i sindaci dei comuni salentini facenti parte della costituenda area marina protetta della Puglia hanno incontrato una delegazione libanese in Salento per cooperazione internazionale dal punto di vista ambientale i sindaci degli 11 comuni del sud Salento facenti parte della costituenda area marina protetta della Puglia la quarta tra le più grandi d'Europa che andrà da Otranto all'Euca hanno incontrato presso la sala consigliare del comune di Tricase una delegazione proveniente dal Libano quest'ultima composta dai referenti dell'Unione delle Municipalità di Tiro e dal gruppo di azione costiera libanese in Salento per delle attività di scambio realizzate nell'ambito del progetto Blue Tier che punta a far conoscere le virtuose esperienze già realizzate nella penisola salentina in materia di monitoraggio e pianificazione marina e costiera per realizzare un percorso istituzionale che possa contribuire allo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente della città di Tiro attraverso la formazione di un sistema partecipato di pianificazione territoriale simbolicamente un fatto significativo che oggi abbiamo incrociato una delegazione libanese per questo progetto di cooperazione internazionale e l'adesione da parte di tutti i sindaci l'ascolto anche della delegazione libanese ha un valore particolarmente significativo in questo momento al di là della sponda esistono delle persone che oggi sono in una grandissima difficoltà e il Salento tutti i comuni del Salento non sono mai indifferenti al termine dell'incontro gli 11 sindaci hanno deciso di devolvere una somma in denaro alla municipalità di Tiro che a pochi chilometri di distanza assiste al terrore della guerra in questo momento storico Tiro purtroppo vive un momento di grande difficoltà perché si trova al confine con i luoghi di guerra ed ospita 23.000 rifugiati abbiamo pensato di dare un segnale insieme agli 11 comuni della costituenda area marina protetta per dare un aiuto di speranza ed ora linea alla pubblicità poi allo sport torneremo nuovamente in diretta con il TG riguardante l'approfondimento rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia di Puglia di Puglia di Puglia di Puglia